Ciao a tutti, come mi vede questa persona? In questo video voglio fare un interattivo dove scoprirai come ti vede una persona, come ti percepisce e quello che devi fare è semplicemente scegliere o il colore nero o il colore rosso o il colore blu. Nel frattempo ti puoi iscrivere al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, se ti abboni potrai ricevere delle risposte precise e mirate le tue domande in apposite live, quindi abbonati al canale. E adesso come mi vede questa persona? Scegli il colore nero, il colore rosso o il colore blu. Io inizio a togliere la stesa blu e la stesa rossa e lasciamo la stesa nera, quindi come mi vede questa persona? Allora questa persona ti vede come sicuramente una persona matura, una persona che può dire la sua, può esprimersi, che ha una partecipazione fondamentalmente alla sua vita ma che mantiene un isolamento talvolta diciamo eccessivamente forte reprimendo un po' quelle che sono le sue esigenze, quelle che sono le sue pulsioni, ma che ha la capacità di sviluppare però pazienza, la pazienza è molto importante per ottenere una rinascita. Quindi ti vede un po' come una persona in trasformazione, una persona paziente, una persona che sta trasformando, una persona che sta sviluppando creatività e che ha un sogno. Ecco, questo sogno fai bene ad averlo, a coltivare questo sogno, questa relazione d'amore fondamentalmente magari proprio con questa persona che ti interessa. E il sogno è anche, diciamo, di fatto ti vede come una amichevolezza, che non vuol dire che non veda una possibilità di rapporti sentimentali effettivi, ma per prima cosa ti vede come una persona amica. Da lì poi potrebbero anche svilupparsi delle relazioni sentimentali effettive, ma ti vede anche come una persona un po' aggrappata al passato, che si porta dietro dei fardelli del passato e che, sì, magari è disposta ad accettare dei compromessi, però che proietta molto. Ecco, probabilmente il fatto di proiettare, di chi viene percepito, è un pensare che anche questa persona qui abbia i tuoi stessi progetti, abbia le tue stesse idee, voglia fare esattamente le stesse cose. Invece non accade spesso questo. Magari noi abbiamo certe idee, vogliamo fare certe cose, ma altre persone hanno idee completamente diverse e quindi c'è un'intensità maggiore da esprimere. Ma diciamo che tutto sommato ha una visione buona di te, più sull'amicizia e sulla stima e sulla considerazione, se vogliamo essere un po' precisi, che sulla personalità. È una persona che ti vede come una persona amica, un po' problematica, matura, matura, più come, possiamo dire, una sorella, un fratello, che come un partner, diciamo, da questo punto di vista. Bene, questa è la prima stesa. stesa. E veniamo alla seconda stesa, che è la stesa di colore rosso. Stesa di colore rosso, come mi vede questa persona. Beh, qua vede una totalità, vede la possibilità di un incontro, vede la possibilità di un'unione. ti vede anche come una guida, da quel punto di vista lì, cioè come una persona che può essere di fatto un riferimento. E che ha capacità di involgersi all'interno, di entrare in contatto con la propria parte interiore, fondamentalmente, che sta migliorando, sta fiorendo anche, possiamo dire, nella sua bellezza, nella sua capacità di dimostrare se una persona che ha una coscienza, che ha un suo modo di vedere le cose, e che sa celebrare i momenti importanti della vita, sa celebrare le cose utili della vita, che ha un certo rigore morale, una certa etica, che sa, diciamo, che ha delle possibilità davanti, possibilità che può cogliere o meno. Vediamo un attimino. Quindi ti vede come una persona molto interiore, una persona che guarda molto a se stessa, dentro se stessa, che va a esplorare un po' la mente, talvolta con problematiche, diciamo, però vede anche una possibile unione solida con te. Quindi vede sicuramente la possibilità di creare un'unione anche solida, di creare una relazione importante, che possa svilupparsi in diverse modalità. E quindi vede anche un nulla, diciamo, da questo punto di vista, che può produrre stress, può produrre blocchi, ma la cosa fondamentale è appunto lasciare seguire il flusso. Quindi è una relazione che può veramente svilupparsi bene, può dare della solidità, bisogna fare attenzione a non lasciarsi ingrabugliare dai veleni mentali, dallo stress, dalle gabbie, eccetera. E allora questa relazione potrà anche essere una relazione sentimentale, effettiva, non basata eccessivamente sulla personalità, ma basata soprattutto sulla condivisione, sulla capacità di essere in sintonia. Bene, questa è la stesa, è la stesa rossa. E veniamo alla stesa blu. Allora, stesa blu ti dà una nuova visione, una nuova... ti vede come una persona che ha la capacità di vedere le cose diversamente, di avere una nuova visione della sua vita. Però è una persona molto afflitta, molto... quindi non dai l'idea, almeno questa persona non ti percepisce come una persona piena di vita, ma una persona piena di problemi, che ha un'abbondanza materiale, ma probabilmente è una... un blocco, diciamo, da un punto di vista emozionale, che sta andando molto lentamente e dovrebbe prendere atto di questo. Ti vede anche un po' come una persona che tende a sfruttare gli altri, è una persona che tende a essere sfruttatrice, è una persona che rimanda molto alle cose e che dovrebbe probabilmente imparare in questa visione a lasciarsi andare. Vediamo un attimino cosa ci dice nella prossima cosa. dovresti avere... attuare un processo di guarigione anteriore. Se percorrerai questo percorso, potrai comunque raggiungere la pienezza e cercare di superare i condizionamenti che comunque ci sono. Insomma, ti vede come una persona problematica e condizionata. Che tu lo sia o che tu non lo sia, questa ha poca importanza, ma se ti interessa questa persona devi dimostrare che sai raggiungere un completamento interiore, insomma, liberarti dai condizionamenti. Bene, per questo interattivo è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live. Ciao a tutti!